Articolo 180 del codice stradale. Vediamo quelli che sono i documenti di circolazione che è obbligatorio avere con sé mentre si è alla guida. Intanto bisogna specificare che parliamo di conducenti di veicoli a motore perché per condurre velocipedi, quindi biciclette, monopattini elettrici, oppure anche per condurre veicoli a trazione animale non è obbligatorio avere con sé determinati documenti di circolazione per l'appunto. Per condurre veicoli a motore invece bisogna poter sempre presentare a un operatore di polizia stradale o anche in caso di incidente alla controparte dei documenti che riguardano se stessi in qualità di conducenti e il proprio veicolo. Cominciamo con il cosiddetto libretto, ossia la carta di circolazione, in determinati casi definito certificato di circolazione o per certi veicoli certificato di idoneità tecnica, per esempio le macchine agricole o i ciclomotori. La carta di circolazione deve essere presentata in originale e valida però in determinati casi anche in fotocopia. Quindi la carta di circolazione va tenuta sempre in originale a disposizione nel veicolo, ma in fotocopia può essere ammessa per rimorchi e semirimorchi fino a 3,5 tonnellate a pieno carico, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto persone oppure di locazione senza conducente, quindi il classico autonoleggio se prendiamo a noleggio un veicolo non avrà la carta di circolazione originale a bordo ma una copia. Quella copia però deve essere, attenzione, autenticata dal proprietario, quindi è una fotocopia con solitamente un timbro e una firma. Quindi autonoleggio oppure anche i veicoli in leasing hanno la carta di circolazione in fotocopia. Fuori da questi casi la carta deve essere in originale. Bisogna poi avere con sé la propria patente di guida che naturalmente deve essere in corso di validità, deve essere idonea al tipo di veicolo che stiamo conducendo ma per quanto interessa all'articolo 180 deve essere resa disponibile al momento di un controllo stradale. Se ciò non avviene, pur essendo patentati, magari abbiamo la patente a casa, incorreremo nella sanzione che vedremo poi alla fine di questo video. Oltre alla patente, in certi casi è necessario avere a disposizione anche un attestato che certifichi i requisiti fisici e psichici. Ci ricordiamo che, secondo l'articolo 115, determinati tipi di veicoli, mezzi pesanti, certi autobus, non possono più essere condotti superata una certa età, oltre una età definita massima, salvo avere un attestato che certifichi il proprio stato fisico e psichico. Quindi, donante un controllo stradale, una persona che è oltre l'età massima, per non incorrere nelle sanzioni dell'articolo 115, deve avere con sé anche l'attestato in questione. Magari la patente non ce l'abbiamo perché ci stiamo esercitando per poterla conseguire. Quindi dovremo avere con noi il foglio rosa, la cosiddetta autorizzazione all'esercitazione, alla guida, che però non è un documento di identità. Quindi non può essere presentata da sola all'operatore di polizia, ma annesso al foglio rosa dovremmo presentare anche un altro documento, un documento di identità, come per esempio la carta di identità. Con noi ci dovrà essere ovviamente un istruttore. Se è un istruttore professionale, quindi della scuola guida, dovrà avere con sé anche l'attestato di qualifica professionale, altrimenti se per esempio il nostro parente, il nostro amico che ci sta accompagnando nelle prove di guida, lui dovrà avere con sé, lui o lei, dovrà avere con sé la propria patente di guida e poterla presentare. Perché? Per poterci fare da accompagnatore, quindi da istruttore, deve avere la patente da almeno dieci anni. Quindi dovrà poterlo dimostrare all'operatore di polizia che lo sta controllando. Veniamo a un tasto un po' più dolente, il certificato di assicurazione obbligatoria, RC Auto. Ora, molto spesso accade che durante i controlli stradali molte persone non abbiano con sé il certificato di assicurazione obbligatoria. Una volta era appunto obbligatorio non solo averlo in auto, ma anche esporre il tagliandino. L'esposizione non è più obbligatoria da molti anni, ma molte persone pensano che non sia più neanche obbligatorio avere il certificato di assicurazione in auto con sé, quindi a disposizione. E questo è sbagliato. È vero che gli operatori di polizia possono verificare elettronicamente nei terminali, possono provare perlomeno a verificare la copertura assicurativa, ma ciò non toglie che in base all'articolo 180 resta obbligatorio avere con sé il certificato di assicurazione obbligatorio. Non è un documento che deve essere presentato in originale come la patente o la carta di circolazione. Va bene una qualunque fotocopia cartacea o formato anche elettronico o fotografico, anche quindi dal proprio telefono, ma ad ogni modo deve essere possibile esibire all'operatore di polizia e in caso di sinistro alla controparte il proprio certificato di assicurazione con numero di polizza, numero di targa, la data di scadenza e tutte le cose annesse. Qui faccio anche una nota personale, nel senso che durante i controlli stradali spesso, molto spesso, accade che le persone appunto non hanno con sé questo certificato e gli agenti di polizia tendono a soprassedere sulla cosa, gli fanno una sorta di ramanzina, gli ricordano di stamparlo, di averlo con sé per la prossima volta, verificano dal terminale che la copertura sia attiva e lasciano andare il conducente. Spesso questo accade, ma attenzione che a rigor di legge si può applicare comunque la sanzione prevista da questo articolo con l'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia che vedremo alla fine. Inoltre ci sono dei casi in cui l'operatore di polizia non riesce ad accedere al terminale, quindi a verificare in via elettronica la copertura assicurativa del veicolo, ma il soggetto, il conducente afferma di essere assicurato, magari banalmente non c'è campo nella zona in cui avviene il controllo, non si riesce ad accedere a internet e quindi verificare la copertura assicurativa oppure non va il sistema, non funziona il sistema. Allora l'operatore a quel punto dovrà per forza di cose procedere a contestare il 180 con annessa sanzione pecuniaria e obbligo di presentazione. Quindi stampate il certificato assicurativo o ricordate di averlo sempre a disposizione in formato fotografico o elettronico. Abbiamo visto quelli che sono i documenti principali, ma per determinate categorie di veicoli ci sono dei documenti aggiuntivi che devono essere tenuti con sé e esibiti all'occorrenza. Per esempio per veicoli che hanno degli usi particolari bisogna avere l'autorizzazione o la licenza per la destinazione d'uso in base all'articolo 82. Se si usa il veicolo per cose diverse da quelle previste dalla carta di circolazione bisogna avere con sé ciò che dimostra che si è autorizzati a farlo. Inoltre quando si espone una targa prova, oltre alla targa prova bisogna avere con sé l'autorizzazione alla circolazione in prova della quale sarà autorizzato un determinato soggetto e per un fine specifico per l'utilizzo della targa prova. Infine quando si conduce un veicolo per motivi professionali si deve anche poter esibire e quindi avere con sé determinati certificati. Il CAP, CA o KB che sarebbe il certificato di abilitazione professionale, pensiamo a taxi, pensiamo a noleggio con conducente, oppure certificato di formazione professionale che è necessario per determinati veicoli speciali o la carta di qualificazione del conducente, il cosiddetto CQC che serve appunto per condurre mezzi autocarri e per trasporto cose. Infine potrebbe essere possibile dover esibire il certificato di idoneità. Veniamo ora all'impianto sanzionatorio di questo articolo. qualora quindi non si abbia a disposizione, non si renda disponibile, come si dice, uno o più di questi documenti obbligatori di cui abbiamo parlato, per ognuno di questi documenti si incorrerà nella sanzione di cui adesso parleremo. Ognuno di questi documenti, quindi se non si ha con sé la patente e la carta di circolazione si prenderanno due verbali, uno per la patente e uno per la carta di circolazione. ognuno con sanzione pecuniaria è annessa, è obbligo di presentazione di cui adesso parleremo. La sanzione pecuniaria è da 42 a 173 euro che diventa quasi dimezzata per i ciclomotori, cioè tra 26 e 102 e oltre alla sanzione pecuniaria dicevamo c'è un obbligo di presentazione. Cioè nel verbale è specificato che si ha l'obbligo di presentare il documento mancante entro un tempo stabilito massimo di 30 giorni, ma questo tempo può essere accorciato dall'agente di polizia, quindi non vale sempre la regola dei 30 giorni. L'agente di polizia potrebbe dare 5 giorni per presentare per esempio la patente e ciò significa che entro 5 giorni dalla notifica o contestazione immediata del verbale bisogna presentare il documento mancante a un qualunque ufficio di polizia, qualunque significa qualunque, polizia, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza che sia presente sul territorio italiano, quindi non è necessario andare per forza nell'ufficio dell'organo accertatore che ha redatto il verbale, anche se magari questo può accorciare la burocrazia. Perché naturalmente l'ufficio di polizia dove noi ci arriccheremo, prenderà in visione il documento che era mancante in fase di controllo stradale e dovrà poi comunicarlo all'organo accertatore che ha redatto il verbale. Quindi ci fa l'articolo 180, la polizia locale della nostra città, noi andiamo dai carabinieri, i carabinieri dovranno prendere in visione il documento e comunicarlo all'ufficio di polizia locale che ha fatto il verbale per mostrare anche a loro il documento che era mancante e chiudere il procedimento. Perché qualora il documento non venga esibito, non venga reso disponibile entro i giorni stabiliti dal verbale, presenti sul verbale, si incorrerà in due sanzioni, ovvero sia in un'altra sanzione pecuniaria molto più pesante, tra 430 e 1731 euro, che è per la mancata presentazione cui si era obbligati entro il tempo stabilito. Ma oltre a quello si incorrerà, si potrà incorrere nella sanzione prevista per la mancanza stessa del documento. Ovvero sia, facciamo due esempi. Se non si aveva con sé la patente in quanto mai conseguita o revocata, oltre ai 430 euro di verbale per la mancata presentazione, perché ovviamente non avendola non potremmo presentarla, verranno effettuati dei controlli e si appurerà il fatto che non siamo patentati e quindi arriverà oltre a quello il verbale per l'articolo 116 in questo caso, ossia per la guida senza aver conseguito la patente o con patente revocata. Un'altra cosa potrebbe essere che non abbiamo con noi il libretto, quindi la carta di circolazione, non lo possiamo presentare perché il veicolo ha la carta di circolazione ritirata, oppure perché è stato sottoposto a sequestro o fermo amministrativo. Quindi oltre al fatto che non avendo con noi proprio il libretto non lo presenteremo a un ufficio di polizia. Quindi oltre ai 430 euro di verbale per l'obbligo di presentazione, che avremo ovviamente mancato, incorreremo anche nella sanzione prevista dai controlli che verranno effettuati. Non avevamo il libretto perché il veicolo era sottoposto a sequestro, sarà contestata anche la guida con veicolo sottoposto a sequestro che comporta confisca e una sanzione molto pesante. Queste sono le sanzioni cui si incorre in caso che oltre alla mancata presentazione ci sia una motivazione posteriore. Quindi non si aveva con sé quel documento perché proprio era mancante per un motivo specifico. Detto questo possiamo passare al prossimo articolo e vi invito ad attivare la campanella e a seguire il canale per non perdere i prossimi articoli del codice stradale che pubblicherò.